Capitolo 8 Capitolo 9 Capitolo 9 Capitolo 9 occhi luccicanti che osservavano l'ingresso dell'edificio. Enormi fauci quadrate erano nascoste dietro una palma quasi sei metri da terra. Un T-Rex! Il mostro spalancò le fauci scoprendo due file di denti impressionanti. Adam ricordò che nel film Jurassic Park il tirannosauro distruggeva un'auto con la sola forza delle mascelle. Una grossa auto. Adam rabbrevidì. Se il dinosauro le avesse raggiunti li avrebbe ingoiati come noccioline e poi di sicuro avrebbe avuto ancora fame. Un attimo! Nel film il tirannosauro entrava nel centro e senza volerlo salvava i protagonisti attaccando i velociraptor che li inseguivano. Quindi bisognava attirarlo per distrare il velociraptor e il dilophosauro e dare a lui e ai suoi amici il tempo per salire di sopra. Ma come fare? Se Adam si fosse mosso i dinosauri dell'altro l'avrebbero individuato subito. Questa volta non c'era nessuna chiazza d'olio. Lui sarebbe stato ridotto in poltiglia prima ancora che il tirannosauro si accorgesse della sua presenza. All'improvviso sentì qualcosa che gli si appoggiava sul piede. Abbassò piano la testa. Era Oscar che preoccupato muoveva il muso velocissimo annosando l'auria. L'aria. Adam sbatte le palpebre. Oscar era piccolo. Senz'altro troppo piccolo perché il tirannosauro riuscisse ad afferrarlo dall'alto dei suoi semmetri. Era anche molto rapido. Sarebbe stato perfetto per attirare l'attenzione del mostro e spingerla a entrare nell'atrio. Oscar doveva servire da esca. Adam si accovacciò al rallentatore. Oscar! Sussurrò. Le orecchie bianche si girarono verso Adam. Per fortuna i conigli hanno un ottimo udito. Devi attirare il tirannosauro dentro al centro. Sperava che Oscar capisse al volo quello che lui aveva in mente perché parlare gli procurava sudori freddi. Il veloci raptor non si era mosso dalle scale. Il dilofosauro continuava ad accanirsi sul dinosauro robot in un fracasso di rumori metallici. Ma se si fossero accorti che nella sala c'erano esseri umani sarebbero di certo passati all'attacco. Oscar gli lanciò un'occhiata torva. Adam indicò l'uscita alzando il mento con un'espressione di supplica. Era l'unica soluzione. Se Oscar non li avesse tolti dai guai erano spacciati. Alla fine Oscar scrollò le orecchie con aria contrariata. Carote e uva passa tutti i giorni. Articolò con la bocca in silenzio. Per sei mesi. Adam Anui è rimasto accopacciato mentre Oscar attraversava l'atrio come una palla di cannone bianco. Uscì dal centro senza farsi notare dai due dinosauri dell'atrio e si precipitò verso l'enorme tirannosauro. Adam si rese conto che stava trattenendo il fiato e si impose di respirare. Oscar se la sarebbe cavata. Sarebbe andato tutto bene. Anche Lex e Tim, sempre immobili, osservavano il coniglio che correva in cerchio davanti al centro. Al tirannosauro non importava niente di Oscar. Adam non era nemmeno sicuro che l'avesse visto. Quando sei alto sei metri un coniglio probabilmente non è molto interessante. Nel romanzo i tecnici del parco provavano ad attirarlo con una capra per mostrarlo ai visitatori. Anche in quel caso il tirannosauro non si era mosso. Quindi figuriamoci con un coniglio. Da un lato Adam era sollevato che l'enorme creatura con i dentoni non cercasse di ingoiare Oscar. Dall'altro se il suo piano non avesse funzionato sarebbero rimasti bloccati lì. Si trovavano su un'isola e prima o poi sarebbero caduti nelle grinfie di un dinosauro. Soprattutto se il malautore controllava la storia. Adam rabbrevidì e resistette alla tentazione di cercare con gli occhi il nemico. Era lì da qualche parte ad aspettare che lui venisse divorato. Per un attimo Oscar scomparve dalla visuale. Poi il tirannosauro abbassò la testa enorme. Di colpo una sagoma bianca tornò al galoppo nel centro. Pista! Arriva la tirannosaura! Urlò Oscar. Adam su sorpreso nel sentire Oscar parlare del tirannosauro al femminile ma poi ricordò che a Jurassic Park venivano creati soltanto dinosauri femmine per evitare che si riproducessero. Ovviamente Oscar distingueve maschi dalle femmine di qualunque specie. Gli animali lo sanno fare tutti. Adam era quasi certo che fosse una questione di odori o di ormoni. Senza un attimo di situazione Oscar balzò su per le scale e Adam trattenne un grido di vittoria vedendolo sfrecciare tra le zampe del veloci raptor. Il dinosauro si girò verso il coniglio ma proprio mentre si apprestava in seguirlo un'enorme zampata si abbatteva al suolo facendo tremare la facciata di vetro del centro. Il tirannosauro si era incamminato. Con tre passi fu davanti all'ingresso. penetrò nell'edificio facendo volare in mille pezzi ciò che restava della porta e lanciò un urlo terrificante. Adam incrociò lo sguardo di Tim che gli rispose annuendo. Dovevano stare pronti. Avrebbero avuto solo una manciata di secondi per seguire Oscar al primo piano. Adam si rivolse in silenzio al tirannosauro. Non guardare da questa parte. Pensi ai dinosauri e non guardare da questa parte. Il veloci raptor si drizzò sulle zampe posteriori. Poco prima sembrava gigantesco ma ora davanti al tirannosauro pareva minuscolo. Era alto appena alla metà. Il dilofosauro invece abbandonò il pezzo di robot che stava masticando e si avvicinò al tirannosauro. All'improvviso allargò il collare rosso e nero. Veloce come un lampo sputò sul tirannosauro. Quest'ultimo si girò verso l'avversario. Con un solo movimento si chinò e afferrò tra le foci il dilofosauro che si dibatté lanciando gridi simili a quelli di un uccello impazzito. Ma il tirannosauro continuò a scrollarlo come una bambola di pezza. Adam si rigidì con gli occhi fissi sul veloci raptor. Era necessario che il dinosauro scendesse. Inutile sperare di salire finché lui fosse rimasto sugli scalini. Finalmente il veloci raptor intuì che era meglio attaccare il tirannosauro mentre aveva le foci impegnate. Balzò sul fianco del tirannosauro. Piantò ai denti e gli artigli nella zampa del grosso animale che indietreggiò scrollandosi per liberarsi dell'aggressore. Ora! gridò Adam. Tim correva già tenendo l'ex per un braccio. Adam notò che il ragazzo zoppicava e ricordò che il giorno prima era caduto da un albero. Adam li seguì a ruota. Le scale erano a pochi metri. Tim e l'ex le raggiunsero senza problemi. Sollevato Adam posò il piede sul primo gradino. Fu allora che un violento colpo allo stomaco lo fece volare via attraverso l'atrio.